Un saluto a tutti, è stato un piacere venire a questo raduno, ho conosciuto ottime persone, tra le quali poi i report man qua, un pezzo, Antonio su Paticini, Andrea, un pezzo di maunti di gioco, il ragazzo di Paticini, Luigi che mi ha sorpreso, con il tempo di averlo conosciuto, Danilo, è stato un piacere, con lui mi sono trovato a Meraviglia, e mi dispiace perché non è venuto, con Giovanni anche, siamo salutati al pranzo, e ci siamo incontrati, con il figlio, anche un compagno, e dispiace per chi non è venuto, il particolare Roberto, saluto anche Henry, che ha avuto un problema qui a Roma, purtroppo ha avuto un buon incidente alla casa, dispiace perché gli altri che non sono venuti, dispiace per Roberto, gli altri, ormai era una cosa risaputa, hanno deciso di lasciare, amen, amen, posso? Grazie a tutti.